Ciao a tutti, oggi vi voglio raccontare una storiella, ma alquanto didattica, nel senso che questa è la parte didattica, il drag paradiddle in 6 ottavi, la stavo studiando prima dalla tabella pass in 6 ottavi un bel esercizio e questa cosa mi ha scaturito nella mente dei ricordi di quando ero molto più giovane di quando avevo cominciato a suonare la batteria, quindi suonando con le orchestre, si suonava allora dei ritmi che oggi sono dimenticati, ad esempio il passo doble, il passo doble è sicuramente un ritmo spagnolo, io ricordo un brano intitolato El Relicario con l'andamento di passo doble in questo modo. Molto bello, è un andamento piacevolissimo da accompagnare, chiaramente in questi tempi tardari, questo passo doble si intitolava El Relicario, adesso farò le veci del cantante e il batterista perché comunque devo farvelo ascoltare, è un'impresa ardua ma lo farò... TURURURUS TURURURUS E quindi tutta questa cosa mi ha ricordato questo drag paradido mi ha portato indietro con il tempo e mi ha ricordato anche il suono bellissimo delle lacchere bellissimo strumento quindi entriamo nella cultura spagnola con questi brani molto belli e ricordiamo a questo punto anche Claudio Villa con il suo Granada quindi dovrò per forza cantarvelo questa cosa mi fa un po' ridere però può rendere più l'idea quindi con questi tenori è difficile suonare con i tenori perché bisogna aspettare loro che scendono con queste corone hanno tutto un modo di interpretare questi brani quindi occhio e stiamo attenti allora Granada Ecco la famosa corona del tenore di Claudio Villa e noi che facciamo Granada mettiamo questo rullone Granada e aspettiamo che il tenore scende e vedete che qua la parte didattica viene fuori il drag paradido chissà quante volte ho suonato questo brano come il relicario avrò messo questo sticking magari ma manco lo conoscevo quindi questo è un messaggio che vuol dire ai ragazzi più giovani che ogni tanto bisogna tornare indietro con la storia e andare a conoscere anche le altre culture perché un domani ci può sempre capitare di suonare una cosa che può sembrare così stupida ma non lo è per niente ma non lo è per niente E come abbiamo ascoltato e visto il passo doble, quindi mi riferivo appunto ai ragazzi, andiamo indietro qualche volta nella storia e andiamo a scovare queste cose perché ci potranno servire perché magari un domani ci può capitare di suonare un passo doble e tutti quanti noi saremo a nostro agio, se non lo conosciamo sono cazzi amari, quindi l'ho detta proprio così per rendere l'idea, quindi Bene, ciao a tutti e speriamo che questo messaggio vi possa piacere, ok? Per me è una cosa bellissima, conoscere un po' di tutto e conoscere altre culture ci aiuta sicuramente a maturare anche se suoneremo rock o jazz perché anche questa cosa può essere anche interpretata in un altro modo ma tipo... tipo cosi adesso all'improvviso Bene, come avete visto, tutto è musica, quindi la musica è bella e basta, la musica è una sola, o il passodoble, o il rock, o il metal, o il jazz, o la classica, qualsiasi altra cosa, la musica è una sola ed è la cosa più bella al mondo, quindi andiamo a conoscere un po' di tutto, ok? E questo era il passodoble, e la cosa didattica era il drag paradino, ciao a tutti!